Sono un bambino di 7 anni, tifoso della Ferrari numero 27 di Formula 1. All'età di 7 anni aveva scritto e inviato una letterina ad Enzo Ferrari, il patron del cavallino rampante, per coronare il sogno di conoscerlo, estasiato dalla passione per la rossa nel campionato mondiale di Formula 1 che seguiva in tv insieme al padre. Adesso, 37 anni dopo, quella lettera è riemersa dal passato e il 44enne cortonese Michele Lupetti è stato ospitato a Maranello da Piero Ferrari, figlio del grande Drake, per visitare la fabbrica e salire a bordo di alcuni dei nuovi boli di usciti dallo stabilimento. Lo ha fatto insieme ad altri due coetanei che all'epoca, a metà anni 80, carta e penna alla mano, avevano espresso il solito desiderio. Mio padre conservava tutta la corrispondenza, ci teneva moltissimo a rispondere a tutti, non voleva lasciare le persone senza risposta e lui riceveva tante lettere, tanta posta, tante dimostrazioni di affetto. I bambini che mandavano disegni, i bambini che mandavano le loro idee, i bambini le richieste più frequenti erano o l'adesivo o la visita alla Ferrari. Questa sorpresa di essere ricercato dalla Ferrari è stata ancora più incredibile, perché ma cavolo, ma dopo tutti questi anni ancora avete questa lettera. Fantastico. L'amore non passa, anche per queste cose qui.